Ci chiamavano eroi ma oggi non c'è alcun piano post-covid, ferie e permessi accumulati già dallo scorso autunno, infermieri ed os chiamati a coprire le falle di un organico carente da anni, mentre gli inserimenti derivanti da nuove assunzioni e mobilità vanno a rilento. La ASA toscana sud-est dimostra un atteggiamento irrispettoso nei confronti del proprio personale, già provato da duri mesi di emergenza sanitaria. È un duro attacco all'azienda sanitaria, quello che arriva dall'URSID, il sindacato autonomo degli infermieri. I presidi sanitari rischiano di andare in tilta, dichiarato Claudio Cullura, responsabile territoriale del sindacato. In particolare l'ospedale San Donato di Arezzo e quello di Nottola in Valdichiana suscitano preoccupazione. Già a settembre si registravano infatti pesanti bilanci dal punto di vista di ferie e oredi straordinario non recuperato dal personale infermieristico. Poi è scoppiata la pandemia che ha messo in stand-by qualunque richiesta da questo punto di vista. Oggi è improponibile l'idea di affrontare il periodo estivo senza un piano per le sostituzioni. Gli inserimenti derivanti dallo scorrimento della graduatoria procedono lentamente, aggiunge Cullura, e non possono sopperire alla lacuna prodotta dal mancato rinnovo dei contratti interinali avvenuti a fine maggio. Serve dunque un piano per dare fiato ai professionisti che hanno combattuto la battaglia del covid-19, facendo recuperare loro ferie e permessi accumulati prima, durante e dopo l'emergenza sanitaria. I pronto soccorso, inoltre secondo Cullura, sono in estrema difficoltà. Il personale inorganico non riesce infatti a gestire nemmeno l'ordinario. Mantenere lo standard di qualità in queste condizioni è estremamente difficile. Pretendiamo, conclude il sindacato, che l'asla toscana sud-est dimostri di essere all'altezza dei cittadini che ne fanno parte come pazienti e come professionisti.